Antonio Blasioli, in questi giorni si continua a parlare di ACA, di questo comprensorio che gestisce comunque l'acqua nei comuni del Pescarese. Ci sono tanti problemi, soprattutto nella città di Pescara. Nella città, ma anche nella provincia. Ci sono veramente migliaia di famiglie che purtroppo da mesi ormai non hanno più acqua. Ed è un momento particolare perché questa emergenza impone, come ci raccomandano naturalmente i medici, di lavare le mani, il corpo, le superfici. E però in molte case questo non è possibile perché l'acqua non arriva. In questo momento particolare noi non avvertiamo una presa di posizione forte né del sindaco né del presidente della regione. Probabilmente sono impegnati in altri. In regione voi sapete che ci sono dei cambi di poltrona. E proprio ieri abbiamo scoperto che in una palazzina della regione, in via Raffaello, dove ci sono tantissimi faldoni, televisioni, computer abbandonati, c'è una perdita di acqua copiosa che ha allagato tutto, una perdita da domenica. E lì né la regione né l'ACA sono intervenute. Questa mattina sono stato sul posto, c'erano i dipendenti dell'ACA al lavoro, la perdita è stata chiusa. Adesso accerteranno se è della regione o se è dell'ACA. Fatto sta che mentre tante famiglie soffrono, in questo momento ci si comporta in questo modo. L'ACA ci dice qualche giorno fa che servirebbero circa 120 milioni di euro per mettere a regime le reti. La dispersione di acqua, dati Istat del 2019, in Abruzzo è sul 40-49%. Nella città di Pescara supera il 50%. A fronte di questa situazione ci dicono aspettiamo novembre per l'Assemblea dei Socii. Nel frattempo, martedì, in Consiglio regionale, il Consiglio regionale d'Abruzzo, maggioranza di centrodestra come l'ACA, approva 6,5 milioni di euro per il ritiro del Napoli Calcio a Castel di Sangro fino al 2026. Questa è la priorità della regione Abruzzo.